Io sono Elia Rustignoli, nato nel 1 settembre 1943, ho 70 anni, sono in pensione, sono architetto, ho lavorato in banca come architetto e io l'8 di settembre, sempre nel 1943, sono stato portato dai miei genitori su dai nonni a Marbona. Ho vissuto fino al 1945, due anni, fino a che è terminata la guerra. Io non ricordo quei due anni, ma in quei due anni mi hanno sicuramente inserito delle radici su Marbona e sugli abitanti di Marbona. Gli abitanti sono i miei zii, i miei nonni, i miei cugini e questo ha fatto sì che me lo portassi dietro per tutta la vita. Oggi come oggi sono ancora molto affezionato a Marbona, anche se purtroppo è dal 1952 che non vado più su. Tutte le estate, dal 1945 al 1952, quando è mancato mio nonno, nonno Pietro, andavo in vacanza. Per me era la felicità totale, completa. Quei due o tre mesi di vacanza erano per me la gioia della vita. Grazie a tutti.